Nell'ambito della nostra ormai affezionata serie di racconti sulla vita di padre Pio, in particolare su episodi meno conosciuti, abbiamo più volte parlato di una capacità che padre Pio aveva di prevedere la morte di alcune persone o di prevedere che una morte preannunciata magari dai medici come imminenti in realtà era una morte che poteva attendere, che nei piani di Dio era previsto che arrivasse molto più in là nel tempo. Ma ci sono alcuni episodi che dimostrano come padre Pio riusciva ad ottenere anche il differimento di questo appuntamento, il differimento di questa data per alcune persone. E allora chiediamo al nostro accompagnatore in questo cammino alla ricerca di fatti meno conosciuti della vita di padre Pio, dottor Giuseppe Caccioppoli, di raccontarci qualcuno di questi episodi. Queste proroghe sono una cosa che lasciano perplessi, fanno pensare, ma chi era questo padre Pio? Ma com'è? Che contatti aveva? Che poteri aveva? Con chi aveva a che fare? E non ci sono risposte. Allora scendiamo giù e vediamo i fatti e cerchiamo di essere belli. Questo è lo stesso Don Pierino che riporta... Don Pierino Galeone. Don Pierino Galeone, che lui è di Martina Franca. E lui riportava che lui disse a padre Pio, padre, una signora di Martina Franca, affetta da tumore, ha i giorni contati e vi chiede di pregare per lei. Padre Pio guarda in alto e poi dice, e va bene, il signore le concede una proroga. Nove anni dopo, nove anni dopo, Don Pierino torna da padre Pio e gli dice, padre, quella signora è tornata a star male. E padre Pio, io diedi una proroga, non la guarigione definitiva. La signora morì dopo meno di un mese. E la spiegazione io non ce l'ho per queste cose. Però si capisce da quello che dice padre Pio che la proroga l'ha concesse il signore e lui ha solo pregato. Altri episodi di questo genere? Ci sta l'episodio di un industriale, Angelo Cantrelli, che veniva sempre da padre Pio, portava offerte dai altri figli spirituali. Chi ci parla di questo episodio invece? Padre Marcellino, io senza nero, che lui ha raccolto tante di queste testimonianze. E questo Angelo si era rivolto a padre Pio in un momento di crisi della sua azienda. Padre Pio lo autò spiritualmente e lui diviene il figlio spirituale molto devoto. e andava frequentemente a San Giovanni Rotondo e portava offerte per la casa sull'io. Un giorno mentre tornava a casa, tornava in treno durante uno di questi viaggi, fu colpito da Enictus. Allora fermarono il treno e cercarono di portarlo all'ospedale più vicino. Così lo scesero dal treno e lo ricoverarono nella clinica Villa dei Pini, presso Civite Nava Marchi. Siccome padre Pio era assai affezionato a lui, appena lo seppe, appena ne fu informato, mandò un altro caro amico, Angelo Bersani, che tutti conoscevano qua, andò per confortarlo. Angelo Bersani andò e tornò, ma il paziente non migliorava. E così la famiglia, la famiglia Cantrelli e gli amici di Parma, si cominciarono a lamentare per la mancata assistenza da parte di padre Pio. E dicevano, ma come? Lui andava da padre Pio a portargli la carità per i malati, e poi ha avuto la trombosi. Padre Pio, sentendo queste cose, appariva rattristato e mandò di nuovo Angelo Bersani, Enzo Bersani, a Civitanova, questa volta con un messaggio. E disse, Dio ai familiari di stare tranquilli, perché ho chiesto al Signore di concedergli ancora 10 anni di vita. Angelo Cantrelli migliorò, si ristabilì, entro poche settimane riprese la sua attività di industriale e morì esattamente dopo 10 anni. A beneficiare di un'altra proroga fu un'altra persona e anche questo episodio ci è narrato da padre Marcellino nell'ambito dei libri in cui ha raccolto queste sue ricerche. C'era ricoverato all'ospedale di Milano un uomo malato di cancro alla gola e padre Marcellino era solito portargli la comunione e quelli disse che anni prima era stato a San Giovanni Rotondo ma padre Pio l'aveva trattato male e gli aveva detto va via, tu sei tutto sporco vattene via, preparati a morire. E così se ne andò l'uomo però tornò dopo tre mesi e questa volta era preparato a mettersi in pace con Dio e dopo la confessione padre Pio gli disse tu non ti devi fare nessuna operazione tu non devi essere toccato e l'uomo non si fece operare e visse altri 8 anni e usava a ripetere io ho ricevuto due miracoli da padre Pio il secondo è che sono vissuto per altri 8 anni ma il primo miracolo che ho ricevuto da lui è stata la mia conversione Sicuramente il secondo è il più importante del primo anche uno scrittore ha fatto esperienza di una proroga di vita di un ulteriore periodo di vita ottenuto grazie alle preghiere di padre Pio chi ci parla di questi episodi? Questo è stato nei primi libri nei primi libri di padre Pio e ha riportato da diverse persone e padre Ruffin pur ne ha parlato padre Ruffin era un prete americano che non era cattolico però si incuriosì durante il periodo della testa di laurea ma chi è questo? E allora venne a Pedralcina venne a San Girono Rotondo andò in Inghilterra cercò di intervistare di vedere i documenti di avere cose di prima mano e così riportava questi fatti e riportò anche questo fatto qua di quest'uomo che aveva il cancro e si confessò lui o lo scrittore Antonelli era molto conosciuto a quel tempo lui scriveva sul giornale d'Italia e quindi era molto apprezzato però aveva questo cancro che era abbastanza diffuso che copriva l'aria tra l'orecchio la mandibola e la spalla e gli avevano dato solo tre mesi di vita e lui non credeva a padre Pio però fu convinto da un altro scrittore ad andare con lui da padre Pio e da padre Pio si confessò e riportò che durante la confessione la sua anima fu come trasportata in uno stato celestiale che in quel momento una specie di corrente gli circolò nel corpo e ogni traccia di tumore scomparve tornato a casa rifiutò qualsiasi intervento chirurgico e riprese la sua normale attività e dopo diversi mesi scrisse sul giornale io mi sento di essere guarito miracolosamente lo scrittore Antonelli visse altri tre anni felici prima di morire padre Pio non riuscì a ottenere perché non era stato illuminato dal Signore sulla sua morte non riuscì ad ottenere una proroga per uno dei suoi più stretti collaboratori Guglielmo Sanguinetti fu colto alla sprovvista dalla notizia della morte di quest'uomo che fu uno dei suoi più stretti collaboratori nella costruzione di casa sollievo per un altro dei suoi più stretti collaboratori il cassiere di questo gruppo di laici che permissero la costruzione dell'ospedale voluto da padre Pio il dottor Carlo Chisvardai però qualcosa riuscì a fare padre Pio ci vuole narrare questo episodio? il padre Pio disse a Carlo Chisvardai che era l'amministratore era stato un farmacista e gli disse Carletto il Signore ha già stabilito la data della nostra morte però io sto dicendo una preghiera speciale per raggiungere un altro anno di tempo assegnato a te e Carla il dottor Chisvardai non deve aver capito tutto questo fatto ma certamente l'ha assorbito dentro di sé e che è successo? è successo che dopo poco tempo che padre Pio gli aveva detto questo era nel 59 il dottor Chisvardai fu portato in coma nella sezione di terapia intensiva di casa sollievo che era stata aperta solo l'anno prima quindi era tutto nuovo e stette per tre giorni senza riprendere conoscenza e era assistito dalla sua cameriera Paola Novak un giorno una notte la signora Novak era tornata a casa esausta e accanto al letto del dottor Chisvardai si trovava l'infermiere Maria Cassano e una giovane suora l'infermiere e la suora uscirono brevemente dalla stanza per meno di un minuto quando tornarono videro un frate uscire dalla stanza e allontanarsi e si entravano nella stanza insieme tutto a un tratto il paziente che è stato in coma per tre giorni disse oh che bel profumo e l'infermiere la disse è l'odore dell'alcol lei stava preparando un'iniezione e il dottor Chisvardai disse no no è il profumo di padre Pio egli è venuto abbiamo parlato e poi se n'è andato e si vede che quello fu che il padre Pio gli ricordò di quelle auto venuto un anno perché il dottore guarì e tornò a casa ma poco meno di un anno dopo questo episodio il dottor Chisvardai morì e gli aveva ricevuto il suo anno in più di buona salute e continueremo a parlare di episodi simili a questo nella prossima puntata che riguarda i fatti di padre Pio restate con noi grazie a tutti grazie a tutti